Sono stato una giornata intera in Puglia, ho visto chiese, palazzi, case, cartelli, con un'occasione precisa, quella di inaugurare una casa donata 50 anni fa, Palazzo Romanazzi Carducci, a Putignano. Putignano città bellissima, con persone gentilissime. Ho visitato quella casa, ho visitato la meravigliosa chiesa parrocchiale, descrivendo e portando con me la memoria di questo teatro che la chiesa rappresenta, la Torre dell'Orologio, i diversi palazzi della città, e poi sono andato ai carri per il prossimo cannevale. Grazie a tutti i nostri piedi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.